italiani i parassiti? punto di domanda italiani i parassiti? punto di domanda e Giorgia Meloni non ci sta perché un quotidiano olandese ha rappresentato gli italiani come dei parassiti per cui giustamente insorge Giorgia Meloni se non che Giorgia Meloni non va in fondo alla questione perché noi italiani dovremmo insegnare agli olandesi che ci fu un tempo in cui un certo Giulio Cesare scrisse un'opera che è famosa in tutto il mondo il Debello Gallico e nel Debello Gallico Caio Giulio Cesare descrive la conquista della Gallia la Gallia la Gallia che è dieci anni le regioni romane guidate da Caio Giulio Cesare restarono nelle Gallie una decina d'anni e venne conquistata pure quella che oggi è l'Olanda allora in quei tempi c'era Roma c'era Roma c'era Roma la città eterna c'era e là in Olanda non c'era quasi niente che bisognerebbe ricordagliere queste cose bisognerebbe ricordaglielo e poi Cesare Cesare dalla parola Cesare Cesare deriva la parola tedesca Kaiser Kaiser Caesar e la parola russa Xar Xar bisognerebbe ricordagliere queste cose e poi bisognerebbe ricordagliere Giorgia Meloni che in Italia è stata stampata quest'opera La stipe del serpente dove si parla del passaggio dal matriarchato del patriarchato ok in questo caso io sto dalla parte di Giorgia Meloni se non che se non che Giorgia Meloni le cose le doveva completare come le ho completate io mi ricorda ricordare agli olandesi che quando loro vivevano nel fango noi c'eravamo Roma la capitale la capitale dell'universo di allora va bene va bene ok cari amici ok cari amici a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni